Immaginate di essere a Firenze nel 1418. Dovete progettare una grande cupola per Santa Maria del Fiore, una delle cattedrali più importanti mai costruite. Ma non avete mai studiato da architetto. Un gioco da ragazzi, no? Per Filippo Brunelleschi, orafo e orologiaio, era l'occasione della vita. Brunelleschi studiò a lungo il problema. E alla fine propose una soluzione arditissima, basata su metodi che gli esperti ancora oggi non hanno pienamente compreso. All'epoca si costruivano soprattutto cupole semicircolari, ma le autorità cittadine pretendevano una cupola a otto spicchi, che fosse ancora più alta e forte. Non doveva esserci un sistema di sostegno centrale che la tenesse in piedi durante la costruzione. E, quel che è peggio, doveva essere poggiata su una base a forma di ottagono imperfetto, senza un centro vero e proprio. Ma Brunelleschi pensò a tutto, progetto a due concentriche tenute insieme da giganteschi archi di mattoni verticali e anelli di pietra e di legno orizzontali. Come i cerchi di una botte, gli anelli avrebbero impedito alla cupola di cedere alla spinta laterale. Per sollevare pesanti carichi di materiali fino all'altezza della cupola, Brunelleschi progettò macchine ingegnose, tra cui un paranco azionato da buoi e altri strumenti decisamente all'avanguardia per l'epoca. Insomma, per realizzare il suo capolavoro, Brunelleschi unì progetto rivoluzionario, tecnologia avanzata e decisione nel risolvere i problemi. Ma come far sì che durante la costruzione la cupola si reggesse senza un sostegno esterno? Brunelleschi dispose i mattoni a spina di pesce, in modo che si avvolgessero a spirale fino alla cima della cupola. Come fermalibri, i mattoni piazzati in verticale avrebbero tenuto fermi gli altri. Gli operai stendevano in media una fila a settimana per dare alla malta il tempo di asciugarsi. A questi ritmi la cupola si alzò a passo di lumaca, circa 30 cm al mese. Ancora più difficile è capire come fu possibile disporre i mattoni con tanta precisione. Secondo molti esperti, Brunelleschi usò come guide delle corde. Una teoria sostiene che le corde erano fissate a uno schema a forma di fiore posto sulla base, che mostrava con esattezza dove doveva andare ciascun mattone. Secondo un'altra ipotesi, le corde partivano dal centro del tamburo, formando una serie di coni sempre più piccoli man mano che si saliva verso la cima. Una terza teoria prevede una diversa combinazione di corde e impalcature di legno. In ogni caso il metodo funzionò. Gli otto spicchi della cupola si incontrerono al vertice, proprio come aveva previsto Brunelleschi. Ci vollero 16 anni per completare la cupola. Alla sua morte, nel 1446, Brunelleschi non lasciò schizzi o appunti che spiegassero in dettaglio come aveva portato a termine il suo capolavoro. Ancora oggi, a più di 500 anni dalla sua costruzione, resta la cupola in muratura più grande del mondo.